Buongiorno a tutti, sono Francesca Cesari, sono una fotografa di Bologna, lavoro con la fotografia da più di vent'anni, ho cominciato facendo un po' di foto a teatro, poi eventi, lavori commerciali che comunque continuo a portare avanti. La mia grande passione è però per il ritratto e in questi anni ho comunque sempre lavorato anche tramite il ritratto. In particolare a partire dalla fine del 2012 ho cominciato a concentrarmi su dei progetti personali, su temi che mi stavano particolarmente a cuore. E così ho cominciato a sviluppare le serie, questi progetti, alcuni dei quali sono terminati, altri sono ancora aperti perché non hanno una conclusione, su alcuni di questi temi. In particolare sulla famiglia, sul rapporto tra madre e bambino, sui fratelli e le sorelle, sul femminile, sul passaggio dell'adolescenza. Sono questi argomenti che mi interessano moltissimo, nel senso che è proprio quello che con la fotografia io voglio indagare, perché avere la possibilità di conoscere le persone, di fotografarle, per me è un punto di vista veramente privilegiato per entrare in contatto con gli altri esseri umani, ascoltare le loro storie, vedere come si approcciano a un'altra persona esterna, come posso essere io. E per me questo è estremamente affascinante. Io sono sempre stata più una osservatrice che non una persona d'azione. E quindi fa parte anche della mia natura essere più capace di osservare, magari silenziosamente, che non di partecipare attivamente in maniera più attiva. Quindi oggi in particolare vi presento un lavoro che è adesso in mostra, sebbene una mostra da poco chiusa, ma insomma speriamo di riaprire, sugli adolescenti, che si chiama Liminal. È un lavoro che ho cominciato nel 2015 e che è ancora in corso. È un progetto sui ragazzi della fascia di età tra gli 11 e i 14 anni, più o meno quando frequentano le scuole medie. Sono in quella fase di passaggio particolarmente interessante tra l'infanzia e l'adolescenza piena, quando sono proprio ragazzi. Ho trovato quel periodo di passaggio veramente significativo. I ragazzi hanno dei cambiamenti fisici molto importanti, ma altrettanto hanno delle metamorfosi anche nel loro modo di pensare, di parlare, nel prendere consapevolezza di sé, e non tanto come solo figli o fratelli grandi e piccoli, ma come persone che hanno una loro opinione, che sono magari non in accordo con i genitori, che cominciano a prendere i loro spazi. Ecco, secondo me questa fase di crescita è incredibile, incredibile, perché è un momento chiave, veramente. Si abbandona una fase lunga e importante, che è quella dell'infanzia, e ci si avvia verso una maturità che avrà mille altri step, ma che in quel momento si avvicina in maniera così veloce. Quindi questo lavoro è un lavoro di ritratto. Io ho incontrato diversi ragazzi nell'arco di questi anni, e abbiamo lavorato come sempre, come faccio sempre io, a luce naturale, nelle loro case, non necessariamente nel loro ambiente, in particolare come la camera da letto, ma l'importante per me è che fossero all'interno di mura che conoscevano, che erano per loro ambiente conosciuto e protetto. Lavorare nell'interno in questo caso è stato significativo anche per sottolineare una dimensione di bozzolo, in un certo senso, dal quale stanno uscendo. E quindi il modo in cui ho incontrato questi ragazzi è stato vedersi nelle proprie case, passare un po' di tempo insieme, chiedendo loro soprattutto di cercare di spogliarsi il più possibile da atteggiamenti, che è la prima cosa che a tutti viene di fare davanti alla macchina fotografica. E quindi ho cercato di chiedergli di avere la massima neutralità, la serietà, come se fossero da soli. E quindi, insomma, il lavoro è nato così. In occasione di questa mostra che adesso è in corso ho pensato di fare una sorta di sviluppo di questo lavoro andando a fotografare i ragazzi che avevo incontrato all'inizio del progetto, quindi nel 2015-2016, a distanza quindi da 4-5 anni. E quindi i ragazzi che all'inizio avevano 12-13 anni adesso ne hanno 16-17-18. E quindi ho ritrovato le stesse persone, ma ovviamente totalmente cambiate. È stato molto interessante lavorare in questo senso e quindi anche col tempo passato vedere quali sono gli ulteriori risultati di questa trasformazione che comunque riguarda qualsiasi momento dell'essere umano, ma che in quella fase trovo particolarmente importante e significativa. Per quanto riguarda un invito che posso rivolgere a voi che dire? Il mio è un lavoro silenzioso nel senso che quello che è il messaggio che io cerco di dare è il più possibile un'immagine assoluta. Non sono meno interessata a lavorare sullo specifico, sul qui e ora, sulla documentazione di quello che succede, ma più sulla condizione dell'essere umano che mi sta davanti. E quindi magari se lavoro con gli adolescenti per questo periodo oppure quando ho lavorato sulle donne che addormentano i propri bambini, su questo legame che esiste, che abbiamo più o meno tutti, almeno come figli, vissuto, così come nel rapporto tra i fratelli e le sorelle. Vi invito quindi a cercare, a guardare queste fotografie così, come un momento di osservazione, di fasi della vita di ciascuno di noi, un po' slegate anche dal proprio contesto, ma viste soprattutto nella loro essenza. Basta. Grazie.